Tranquilli, non vi preoccupate, Pippo Baudo sta bene, non è morto ma è stato Vittorio Sgarbi a lanciare questa notizia che sta facendo un po' il gilo dei social, ma è soltanto una gaffa, perché a oggi e un altro giorno il critico d'arte parla con Serena Bortone, della sua collaborazione con Raffaella Cavra e anche con Pippo Baudo. Ma proprio parlando del famosissimo conduttore si è lasciato scappare una fase che ha stupito un po' tutti, Pippo Baudo è scomparso da poco mi pare, è scomparso vero o no? dice Sgarbi, il pubblico è rimasto senza parole e a chi provava a controbattere Sgarbi ha risposto, è una notizia che ho letto veramente ieri, Pippo Baudo è morto, poi Serena Bortone interviene immediatamente e dice ma è vivo dai, come si dice in questi casi gli allunghiamo la vita? Abbiamo allungato la vita Pippo Baudo, a questo punto Sgarbi ha replicato siamo sicuri che vivo, per fortuna così siamo a posto. La cosa seria è che Vittorio Sgarbi era veramente convinto che Pippo Baudo fosse morto e probabilmente ad ingannare il parlamentare è stata qualche fake news circolata nei giorni scorsi proprio sul web come spesso accade nel caso dell'annunciata scomparsa di celebri personaggi. Fatto sta che non si deve assolutamente mai credere alle fake news ma a quanto abbiamo capito Sgarbi ci è caduto con tutte le scarpe. Quindi lunga vita al grande conduttore Pippo Baudo e vivo e sta bene. Iscriviti al mio canale se ti va e lasciami un like di supporto perché solo così non ti perderei questo ma nessun altro. Prossimo video